Stasera siamo fuori a cena ma in casa di amici L'idea nasce intorno a una sala di camoce Ce l'ho in fritta da un secolo Se trovi qualcuno che lo cucina Ce lo mangiamo sabato da me Proporre la gialla Tempo fa bastava una spaghettata Un risotto con le ortiche Qualunque altra erba solitamente destinata ad altro Per mettere insieme qualcosa di divertente C'è sempre qualcuno dalla compagnia Che si compiace dal ruolo di gourmet Così alla padrone di casa Resta soltanto da preparare il disco Con la tovaglia di pizza E il centro tavolo di fia di secchio Tutti portano un contributo in natura Il vino, il formaggio del pastore Il dolce e lo champagne Che in parte viene tesorizzato La formula è svelta e conveniente Anche la cucina resta in ordine Perché il cuoco di turno preferisce lavorare a casa E si presenta col prodotto finito Ma stavolta il compito è gravoso Sui sacri testi la carne di camuscia Viene definita pessima E di laboriosissima preparazione Tuttavia il volontario Che ha preso in consegna il materiale Si impegna a fondo Con l'aiuto di vari Escoffier E boccuso Che ridano qualche indicazione Per rendere comestibile Quello reperto Anzitutto bisogna far sparire Al tanfo Che all'atto dello scongelamento Ha rimbasso la casa Nella mantina Scorrono fiume L'ultimo bagno deve risultare limpido Il processo di purificazione Prosegue con l'immersione del camuscio In un cattino di baroro Ce ne vanno due nobili bottiglie Ommaggio di un vecchio Natale Ma quel sublima aroma Non basta soffoccare il puzzo originario Bisogna procedere con pepe verde Rosa e nero Noce moscata Cannella Coriandolo e chiodi di garofano Quando finalmente Dopo 12 ore di marinata Lezza è quasi neutralizzata Si passa alla cottura Praticamente è un intero sabato Laboratino In cui il volontario Rosola Coppecchia Scoppecchia Nusa Assaggia Aggiunge Sfuma Rimescola E viene il momento Sfuma La pittosa E ricordo paurosamente La lonza di maiale fine del colpo di vita io davanti alla pelliccia divisore non le non regisco per di quanto non mi accada di fronte a un polo lo spiedo a una tronta con maionese anzi mi fastidio con i bambini tirati su l'alletto convinzione che i castorini siano teneri, infelici, animaletti più dei vitelini di cui mangiano il filetto o degli agnelli che gli forniscono i polacchetti e tuttavia mi mando in base alla stupidità di chi paga milioni per avere due volte all'anno licenza di sparare una splendida animale che poi debitamente squartata ha messo per mesi nel maxi freezer di cantina traboccante di prede scorticata che è più difficile collocare fra gli amici che non una cucciolata di gattini finché non appare un cuoco kamikaze disposto a immolare un paio di giorni per camuffare quel letto di insignia cadavere e servire in tavola un volcanismo abrasato disgustato da quel camufficidio scusate disgustato da quel camufficidio ho avuto una reazione zoofino eravamo per capodanno a casa di Loris che ogni tanto organizza serata per gli amici nel suo teatro e in cantina hanno esalito cabarettisti e mimiche e poi hanno fatto carriera alla fine regali per tutti e Loris mi disse portacci una sorpresa fatto che te la porti a casa e fece entrare un enorme gabbie con dentro dei capponi rispose nel modo più ovvio che avrebbero portato i capponi in trattoria e ce li saremmo fatti fuori insieme la serata per seguire io accettavo un occhio ogni tanto di due capponi in gabbie e ricordare le tre gallinelle che tenevamo in giardino durante la guerra ci assicuravano le uova per lo zbaiore che nostra madre ci sbatteva nella tazza prima dell'interrogazione in algebra venne un Natale avevamo poco da mettere in tavola guardammo le galline e poi ci guardammo in faccia io e mia madre e mia sorella e noi concordammo che tirare il collo di galline sarebbe stata come strazzare il gatto tu devi solo pensare a uscire di qui non sono animalista e neanche vegetariano anzi mi piace il polo lesso e inumida alla diavolo non mangio polo all'anima con quei due capponi ero entrato in rapporto avevo incrociato il loro sguardo mi intessero stavano accucciati e starditi da tutta quella gente io sarei stato responsabile della loro morte chiesi alla moglie di Loris cosa si sarebbe potuto fare per graziarli e lei mi disse che le era venuta l'idea suo sorale aveva un polloio modello niente esecuzione solo li buarnese e ovaiole l'avrebbe chiesto asilo politico per i capponi io disse che avrei contribuito al mantenimento di questi ingombranti e improduttivi per l'ultimo così è stato si parla sempre di salvare panda delfine e focche io ho fatto la mia ponte a suo parto a favore del du capponi che more non ha due ciare